Maria Grazia Colanz La motivazione intuista, maturità letteraria, concettualità perfetta nell'espressione di sintesi poetica, interessa e avvince per la molteplici stigmatizzazione di situazioni morali. Grazie. Grazie. Mi cerco nel danno di cose superfue, eluse, domande esistenziali, assurde in queste ore cotturne. Non lasciatemi sola, con incontrollabili paure sminuite e felise per il quotidiano volgersi della pagina solare. Io sono forte. Lo devo. Non sempre. Grazie.